Il Presidente Berlusconi Il Presidente Caldoro della Campania e Polverini del Lazio ha espresso una posizione improntata ad equità che anche il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, ha recepito. Il Presidente Berlusconi ha accolto la richiesta fatta da noi Presidenti di Regione delle PDL di introdurre correttivi nella manovra per evitare che le Regioni si sobarchino di un costo eccessivo e questo è un dato senza dubbio significativo. Abbiamo chiesto in particolare, ha aggiunto Scopelliti, che lo squilibrio sui costi della manovra e i danni delle Regioni venisse ripartito in maniera equa su tutti i soggetti pubblici coinvolti e Berlusconi ancora una volta si è dimostrato sensibile dicendosi disponibile a correttivi proprio su questo aspetto. Credo che questo sia un dato molto importante, non ha senso fare le battaglie contro il governo rispetto ad una manovra che esiste e va fatta, come ha affermato la stessa Unione Europea. Le battaglie le faremo sulle cose importanti, il punto è che noi vogliamo pagare in maniera equa rispetto ad altre Regioni e non di più solo perché non siamo una Regione virtuosa, ma non per colpa nostra. Siamo pronti per le nostre battaglie, ha concluso Scopelliti, e non abbiamo certo timore, come qualcuno vorrebbe far credere, di interloquire con il governo. L'occupazione giovanile è e rimarrà uno dei quattro pilastri tra gli obiettivi di questa amministrazione. Crediamo che questo sia il primo segnale che diamo in questa direzione. È deciso il Presidente della Giunta regionale calabrese Scopelliti nel presentare il nuovo piano stralcio per l'occupazione varato dalla Regione insieme all'assessore Allaramo, Stilitani. Lavoriamo a questo progetto già da prima della campagna elettorale, ha continuato il Governatore che nel formularlo ha preso spunto dalle sue precedenti esperienze di assessore regionale al lavoro e di sindaco di Reggio Calabria. Possiamo utilizzare 147 milioni di euro dei fondi comunitari, cifra non sfruttata dalla precedente Giunta regionale. L'obiettivo è quello di creare 7 mila nuovi posti di lavoro nel settore privato entro la fine del 2010, con un impegno di spesa per quasi 150 milioni di euro, attenti in buona parte dai fondi POR 2007-2013 e 5 diverse linee di intervento. Si tratta di un nuovo piano, ha spiegato Scopelliti che in attesa del completamento del piano regionale per il lavoro e l'occupazione, si caratterizza non solo per azioni mirate alla tutela del reddito delle famiglie, ma anche per incentivare nuove occupazioni attraverso azioni integrate di tutela e di politiche attive per il lavoro. Presidente, si diceva, questo è uno dei primi segnali che diamo, lavoravamo a questo progetto già prima della campagna elettorale. Tu pensi che possano incidere sull'occupazione calabrese questi cinque bandi? Penso parecchio perché comunque dà un segnale nuovo in Calabria, dà una dimostrazione di attenzione da parte di questa amministrazione e produce risultati importanti perché va verso l'opportunità di creare 7.000 posti di lavoro per i nostri giovani disoccupati. Le iniziative previste dal piano stralcio concertate con le parti sociali di dettori di lavoro sono dunque cinque. Un progetto integrato di borsa lavoro, integrazione salariale e formazione continua che prevede una spesa di 105 milioni e la creazione di 4.000 nuovi posti. Un progetto per la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il programma ARCO che si rivolge in modo specifico alle imprese artigiane, un'azione welfare to work che ha lo scopo di supportare i lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a causa di crisi aziendali o occupazionali ed un'azione di microcredito con l'intervento di Finne Calabra per la quale la giunta regionale sta lavorando ad una riorganizzazione per renderla più partecipe e dinamica nel sistema produttivo calabrese con la creazione di uno fondo di garanzia finalizzato a garantire operazioni di microcredito. E' sempre definito l'occupazione giovanile come uno dei quattro pilastri di questa amministrazione? E' una delle priorità di questa amministrazione. Oggi dopo 50 giorni, 60 giorni al nostro insieme, abbiamo già messo in piedi questo progetto. Presidente, 147 milioni di euro dei fondi comunitari che non erano stati sfruttati? Sono 147 milioni di euro, gran parte di fondi comunitari ed è un modo per dire che noi su questi temi vogliamo valorizzare al massimo le risorse per dare risposte significative su un tema così delicato come quello dell'occupazione giovanile e quindi come quella che sono le politiche attive del lavoro e quindi un impegno verso i giovani calabresi. Presidente, i tempi non saranno estremamente lunghi, quindi lei crede che avremo già i primi risultati in termini di occupazione giovanile? Noi contiamo che entro pochi mesi di poter attivare subito dopo l'estate questo meccanismo, quindi dare delle risposte e magari avere già dentro l'anno l'opportunità di far partire questa nuova stagione.